Per dare più sicurezza negli impianti sportivi a tesserati e bambini è doverosa una preparazione sul primo intervento agli istruttori è quanto ha fatto la società calcistica del Città di Cerveteri che ha tenuto un corso per l'utilizzo del defibrillatore troppo importante per la sicurezza degli allievi. Questo è il primo passo del progetto di cui avevamo già parlato, di prevenzione e sport che stiamo portando avanti con la famiglia Lupi è il Cerveteri Calcio e questo è il primo tassello perché secondo noi maggiori sono le sicurezze che noi andiamo a porre nel campo di gioco sia per i tesserati che per i bambini che per le famiglie, più sicuri ci sentiremo sicuramente tutti. Da oggi allenatori e dirigenti potranno intervenire in caso di necessità. Ma guardate questa è una prevenzione che vale sia per le società sportive ma praticamente per tutti anche durante l'arco della nostra giornata può sempre capitare e quindi delle cose che possono salvare la vita delle persone essere preparate ad affrontarle in questi momenti di ansia e di agitazione sicuramente aiuta a essere freddi e operare bene.